Io dovrà allenarsi ulteriormente, prima ragazza in immagine, sempre nella prima rotazione, ma al femminile, la rumena Gabriela Dragoi, 15enne alle parallele asimmetriche, nuovo elemento di questa nazione che, come sempre, presenta grandi talenti. Parte volante, sempre l'assistenza di un allenatore, è possibile anche in campo internazionale avere vicino un allenatore in questi frangenti. Vedremo più avanti anche Enrico Casella, allenatore della plurimedagliata Vanessa Ferrari, recente campionessa del mondo e campionessa europea. Sempre molto attento, in generale comunque i tecnici hanno il dovere in questi casi di rimanere molto vicini alle atlete. Conclude la sua esecuzione Gabriella Dragoi.